lascia che l'energia parli tramite te quest'estate riderete ballerete vi innamorerete videocorso magia d'amore e i segreti della telepsichia un corso per entrare nella sua mente iscriviti subito www.vocidagliangeli.com buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero andiamo anche oggi a vedere l'energia del giorno andiamo a vedere che cosa sta accadendo nelle nostre vite e infine con il consiglio degli angeli vedremo come affrontare al meglio questa situazione iniziamo quindi con un otto di denari e adesso vediamo quali saranno le altre due carte e ovviamente se volete una sessione privata con me che sia di tarologia che sia di life coaching o di analisi karmica oppure un pacchetto che comprende più prodotti insieme andate a dare un'occhiata sul sito internet o inviate un email la mia assistente Angela vi dirà esattamente cosa potete fare cosa avete a disposizione e se volete invece diventare i miei studenti di tarologia o di psicologia karmica ed energetica o di magia d'amore telepsichia inviate una email e e avrete sicuramente Angela vi darà tutte le opzioni che avete a disposizione per rateizzare o per avere degli sconti prendendo più corsi dunque abbiamo un otto di denari abbiamo un sette di denari un matto è un nove di denari wow sono tutte carte di denari queste tutte carte di denari a quanto pare la fortuna premia gli audaci questa è la frase di oggi perché le energie ci le energie che si stanno manifestando ci dicono davvero che qui si tratta di rischiare se sappiamo rischiare possiamo possiamo vincere è come se possiamo vincere bisogna sapere rischiare la prima carta è un otto di denari e la seconda carta è un sette mentre invece l'ultima è un nove quindi qua richiamo un attimino l'attenzione dei miei studenti soprattutto quelli di secondo livello che sono già un po più avanti con con il programma e che quindi possono seguire meglio questi ragionamenti noi abbiamo tre carte di denari però stiamo passando da un otto a un sette a un nove quindi questa energia al di là del significato delle carte al di là della stesa e di quello che noi adesso vedremo noi abbiamo un otto un sette un nove significa che dalla posizione numero otto noi torniamo indietro andiamo al sette facciamo quindi dei passi indietro perché non stiamo seguendo una sequenza otto sette otto nove ma stiamo seguendo un otto sette nove quindi dall'otto facciamo un piccolo passo indietro poi con il matto salto ritorniamo al nove quindi è come se energeticamente questa stesa ci stesse dicendo che per fare il saltino dobbiamo fare un passo indietro questo è ciò che accade a volte quando dobbiamo guardare osservare meglio la situazione per capirla bene prima di decidere come agire a volte ci serve proprio questo ci serve osservare bene la situazione capirla davvero guardarla meglio e dopo siamo in grado di agire di attivarci queste sono cose che si comprendono appunto magari con un po di esperienza dopo non non per chi è alle prime armi nello studio dei tarocchi e della tarologia però già questi sono comunque degli indizi che ci fanno capire come le lame ci parlano sotto vari punti di vista la lettura dei tarocchi non è un qualcosa di schematico rigido ma è un qualcosa di multidimensionale quali sono quindi le dimensioni della lettura dei tarocchi le dimensioni della lettura dei tarocchi sono significato delle singole carte prima dimensione ogni carta un significato poi significato delle carte messe insieme quindi significato generale della stesa e quindi questa è la seconda dimensione poi ci sono gli abbinamenti quindi significato di alcuni gruppetti di carte presi insieme e infine poi ci sono anche altri significati paralleli a questi come ad esempio la sequenza dei numeri la sequenza dei numeri ci dice tantissimo o la quantità di numeri uguali o di carte uguali quindi se abbiamo due o tre sette in una stesa questo è un altro livello di interpretazione in questo caso noi abbiamo parlato appunto del livello di interpretazione legato alla sequenza quindi per chi sta studiando con me ma anche per chi sta studiando da autodidatta o con altri insegnanti tenete presente che anche questo vi dà delle informazioni noi siamo all'otto facciamo un passo indietro torniamo al sette da qui con il matto saltiamo ci lanciamo e arriviamo al nove quindi al risultato finale ora andiamo a vedere una per una partendo dal dall'otto noi stiamo lavorando noi ci stiamo dando da fare stiamo proprio lavorando ci stiamo occupando di fare quello che ci serve per arrivare al nove per arrivare all'obiettivo che è il benessere una condizione di benessere non solo ma mentre noi ci diamo da fare c'è anche qualcuno insieme a noi c'è qualcuno che sembra però che noi e questa persona stiamo aspettando qualcosa sembra che anche questa persona stia aspettando qualcosa ma nel frattempo non c'è molta comunicazione molto scambio fra noi e questa persona sembra che ognuno se ne sta un po per i fatti suoi questo potrebbe essere un amico un collega un partner un parente potrebbe essere chiunque però ecco c'è questa mancanza di complicità e comunicazione ognuno per i fatti suoi ognuno sta facendo quello che vuole quindi come se bisognerebbe magari collaborare ma aspettando qualcosa questa collaborazione ancora non si sta mettendo in moto e allora siccome non sappiamo cosa fare perché ci sentiamo un po bloccati ci sentiamo un po imbambolati non sapendo esattamente come fare ecco che facciamo il passetto indietro ed ecco che passiamo dall'otto al sette passo indietro scegliamo quali sono le opzioni che abbiamo a disposizione cosa possiamo fare per sbloccare questa situazione magari proprio con questa persona anche ecco che decidiamo fra le varie opzioni ne scegliamo una quella che per noi è più comoda quella che per noi è più più adatta semplicemente la scegliamo in base alla comodità e a questo punto quando siamo comodi eccoci noi con il matto eccoci noi che agiamo che facciamo un salto e che andiamo verso l'obiettivo tutto termina con un 9 di denari che è la carta che è una carta meravigliosa perché parla appunto di benessere di abbondanza di autos di essere autosufficienti indipendenti di avere tutto quello che serve davvero tutto quello che serve parla di noi che ci rendiamo conto che non ci manca nulla che raggiungiamo i nostri obiettivi questa è un'energia che potrebbe riguardare la giornata di oggi o i giorni attorno ad oggi ovviamente ragazzi ci fa comodo se ci fate sapere che cosa sta accadendo a voi nel frattempo in modo tale che appunto i miei studenti possano usufruire dei vostri commenti per fare un po di pratica per aiutarsi nella pratica voi sapete che queste stese mattutine le ho create proprio sotto suggerimento di alcuni studenti che sentivano il bisogno di qualcosa di pratico su cui esercitarsi e adesso prendiamo la carta degli angeli e vediamo qual è il loro consiglio per vivere e gestire al meglio questa energia ed abbiamo il 6 la carta degli amanti l'arcangelo raffaele che ci dice appunto che nel momento in cui noi dobbiamo scegliere e quindi ritorniamo al 7 di denari la scelta facciamo il nostro passo indietro e scegliamo dobbiamo stare molto attenti perché potrebbe esserci qualcosa che tende a trarci in inganno e questo qualcosa che potrebbe tendere a trarci d'inganno sono le emozioni ci sono alcune emozioni dentro di noi che potrebbero un po farci sbagliare nella scelta un po confonderci ma in realtà credo comunque che saremo sicuramente in grado alla fine di fare la scelta giusta si tratterà solamente di una distrazione momentanea si tratterà solamente di qualche piccolo dubbio che potrà sorgere in tutto il processo ma alla fine comunque terminando con il 9 di denari siamo davvero a cavallo ad ogni modo ragazzi andate sul sito internet inviate una email se volete iscrivetevi alla newsletter e ci lasciate email e numero di telefono e noi ci vediamo alla prossima